Guardate com'è facile preparare le melanzane in questo modo. Sono le melanzane in tecia, un piatto tipico della cucina veneta. Tagliate a piccoli pezzi le costre di sedano. Tritate finemente anche la cipolla, versate le verdure in un'ampia padella, aggiungete l'olio e fate rosolare per qualche minuto. Lavate le melanzane, pulitele e tagliatele a pezzetti. Se volete potete metterle a riposare con del sale per eliminare l'acqua. Versate poi le melanzane a pezzi in padella con il sedano e la cipolla, regolate di sale e di pepe. Fate cuocere a fuoco basso con il coperchio per 15 minuti mescolando ogni tanto. Togliete il coperchio, aggiungete il vino e fate evaporare completamente. Quando il vino sarà evaporato aggiungete i pinoli, i capperi e il triplo concentrato di pomodoro. Fate cuocere per altri 5 minuti, togliete dal fuoco, aggiungete qualche foglia spezzettata di basilico, versate le melanzane in un piatto e fate raffreddare. Quando saranno fredde aggiungete un goccio d'olio e qualche foglia di basilico. Se le provate fatemi sapere.